Alla fine questa rabbia non si può sottovalutare. Non si può sottovalutare e non si deve sottovalutare. Io credo questo, ma è un sentimento diffuso anche tra i membri del Parlamento e dal Governo. Qui non ci sono quelli di serie A e quelli di serie B. Non c'è un accanimento nei confronti di categorie professionali. C'è mezza Italia che non sta lavorando da un anno. Mezza Italia. Ognuno di queste persone ha delle famiglie, ha dei parenti, ha dei dipendenti. E noi ce ne rendiamo perfettamente conto. In questo anno ci siamo indebitati, quindi abbiamo fatto uno scostamento di bilancio di quasi 200 miliardi. Alla fine noi arriveremo a 200 miliardi di scostamento. A loro sono arrivate le briciole. Ma non perché c'è stata una volontà, ma perché abbiamo dovuto distribuire questi 200 miliardi in tanti livelli di sofferenza. Allora, ora la questione sono essenzialmente due. Uno, come ripartiamo, quando ripartiamo e che tipo di certezze riusciamo a dare al settore più colpito di tutti in questo anno di pandemia. E cioè il turismo e l'indotto, cioè la ristorazione. Perché poi, vedete, c'è il ristorante o l'albergo che riuscirà a riaprire, a funzionare da giugno in poi, perché si trova in un'area di mare, di balneazione. Poi ci sono quelli dei centri storici che se tu non hai il museo aperto, il bar, il teatro... Bisogna dargli una prospettiva. Esattamente.